dal cielo alla terra. Molti laici e non credenti si salveranno perché hanno vissuto e messo in pratica i miei comandamenti ed io ho dimorato nei loro cuori e non nella loro mente. Molti credenti e religiosi si perderanno nei meandri oscuri della morte. Seconda perché, sepolcri imbiancati ed ipocriti, hanno mentito a Dio e a loro stessi ed il mio nome è stato solo presente nella loro mente e nella loro bocca, allontanando definitivamente dal loro cuore il mio amore. Vi ricordo un'altra delle mie profezze e molti in quel giorno mi diranno. Signore, non abbiamo parlato nel tuo nome? Ma io dirò loro allontanatevi da me, non vi conosco, quel giorno e quell'ora sono prossimi a manifestarsi, quando i cavalli dell'Apocalisse, gli zigosacqua, aria, terra e fuoco metteranno in ginocchio il genere umano sappiate che l'ora è vicina. Quel giorno i 144.000 eletti si vestiranno di luce e saranno prelevati in cielo dai miei angeli cosmici, a loro si uniranno tutti coloro che hanno sentito la chiamata e quindi risvegliato i loro spiriti alla verità e dalla vita. Questi spiriti fratelli degli eletti, meriteranno la salvezza grazie alle loro opere. In mezzo a loro danzeranno di gioia tutti i bambini del pianeta. I quali saranno strappati dalle mani della fame, della violenza e della tortura causata dagli assassini della vita. Quel giorno e quell'ora sono prossimi sappiatelo. Ho bussato, ho chiamato, pace. Dal cielo alla terra Giorgio Bongiovanni